Bentornati in collegamento con la partita del secolo. Se vi siete collegati soltanto ora vi siete persi una partita incredibile. E siamo ai calci di rigore. Il primo tiro da parte della Yale, il tiro è golla! Il tiro finisce da sinistra del portiere anche se ne aveva innatuito la traiettoria. E c'è il gol, grande gol. Ecco che entra in campo Scott Sterling. Eccolo esaltatissimo, pronto per difendere i pali. Il pubblico è eccitatissimo. Johnson posiziona il pallone sul dischetto. Sembra molto sicuro di sa. Lo vediamo prendere la rincorsa, il tiro è! L'orre clamoroso! Johnson prende direttamente sul volto Sterling. Incredibile una pallonata a 116 km all'ora. E sono molte miglia orarie in effetti. Ok, vediamo il medico in campo. Controlla che non ci siano traumi dopo il suo spettacolare salvataggio. Sterling sembra stia reagendo molto bene al colpo. La gente sugli spalti è in piedi? E anche lui direi che è in piedi. Direi che i compagni hanno apprezzato il gesto atletico. È già un eroe. Per ora. Ed ecco lo Yale al secondo tentativo. Si avvicina alla palla con determinazione. Il tiro alto sulla traversa! Fuori e fuori! E il bundavia è un'occasione. Vediamo l'attaccante chinato a pregare il suo Dio. Che non sarà contento. Eh, davvero. Di nuovo in porta Scott Sterling. Sembra si sia ripreso. È pronto per il secondo tiro. Parte il tiro di scritto! Sterling con un bellissimo tuffo! Parà anche il secondo tiro! La palla gli è passata tra le mani! Ed è stata fermata direttamente dal naso! Eh, vediamo nel dettaglio il colpo. Il pallone che va a colpire violentamente è l'avviso. 129 km all'ora! Sterling non sta bene. Due salvataggi incredibili e due conseguenze terrificanti per lui. Bruno, sono preoccupato perché non riesce a reagire, ad alzarsi in piedi. Eh, infatti vediamo il medico trascinare Sterling come un leone baffuto trascina la sua preda nella savana. Ciao, ciao Sterling, direi. Terzo rigore per lo Yale. C'è il portiere che sta saltando come una ragazzetta. Il pubblico trattiene il respiro. Parte il tiro e c'è la parata! Non va! Non va! Oh, Sterling! Sterling ancora in campo! Non è possibile! Lo vediamo a mettere in atto una tecnica particolare. Esatto, Bruno, serve a proteggere la faccia. Ora il pallone sul dischietto, ma attenzione, c'è una pausa. Il giocatore si allaccia alla scarpa. L'attesa si fa snervante. Sterling è ancora lì che aspetta il tiro. Probabilmente si... E ciò è! No! Incredibile! Il giocatore si fa completamente il tiro! Di nuovo in faccia! E direi che ormai la sua nasa è completamente devastato. Sembra quella di una strega che volando si è schiantata contro il lamura del pianto. E di nuovo un'altra parata del North Carolina. E ritorna... Sterling! Sterling! L'uomo! La leggenda! Tre parate perfette realizzate tutte con l'ausilio del volto. Assolutamente incredibile, Bruno, ma dobbiamo dire che non mi sembra di vedere Sterling in ottima forma. Eh no, davvero. Ed ecco vediamo che i suoi compagni entrano in campo per dargli una mano. No, aspetta! Gli hanno portato una sedia! Grande gesto di sportività in campo da parte dei suoi compagni. La solidarietà mostrata da questa squadra deve essere un esempio per tutto il mondo sportivo. Ultimo dettivo per il North Carolina di portare in equilibrio il risultato. Oh! 168 chilometri orari! Un missile terra-aria! Un tiro violentissimo! Senza pietà! Uno dei tiri più potenti che si siano mai visti di nuovo direttamente e ancora sul suo volto. Lo Yale si sta preparando per il suo ultimo tiro. Tiro e sbaglia! Clamoroso errore! Ed ora il turno di Scott Sterling! Scott Sterling! È tornato il muro degli Yale! Ma un muro notto è pieno di lacrime! Ma attenzione, non vediamo Sterling! Ma cosa sta facendo? Si sta allontanando dal campo! Oh! Fantastico! Incrasibile! Non più non avrebbe visto nulla di simile! C'è la parata di Sterling! Ancora una volta ci mette la faccia! Un muro impenetrabile di sangue e dolore ha definitivamente sigillato la porta dell'Aliella! Fate una mena a quest'uomo che oggi ci ha dimostrato il significato delle parole! Dignità, sangue e dolore! Torna a casa sfigurato ma con il trofeo anche se probabilmente i suoi figli non lo riconosceranno e sua moglie chiederà il divorzio! Sante parole Bruno! E ora diamo la linea Fake Off Italia!